Una delle più grandi opportunità che abbiamo è quella di condividere non solo sapienza, esperienza, ma anche conoscenza. Ecco che da cinque anni ormai mettiamo a disposizione dei liberi professionisti, della professione medica, dei nutrizionisti, degli operatori sanitari, una delle scuole più interessanti per l'approfondimento, la formazione, ma soprattutto per l'aggiornamento medico-scientifico. Questa scuola sul nutraceutica, epigenetica, biofisica e nutrizione parte dal presupposto di colmare quel gap che va dall'università alla pratica clinica. Ecco che noi con questa scuola di alta formazione possiamo veramente fare una grandissima differenza per formare, creare cultura, ma soprattutto per dare quelle informazioni che ci permettono, che poi permetteranno al professionista, un approccio clinico integrato, centrato, mirato sulla persona. Scuola di alta formazione parte il 14-15 ottobre, iscrivetevi su upainook.it oppure sul nostro sito sdriveitalia.it.